Stop and Goal non si ferma mai. Sera e sè! Il guizzo del campione! Con la Serie A raccontata da inviati ospiti. Hai visto la partita o no? Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto, però... E l'allegria della nostra grande squadra. Vi faccio vedere un giapponese che esulta con una mossa di bowling, uno strike a me da una nuova. Ma soprattutto non perdetevi i gol della giornata in esclusiva, prima di tutto. L'appuntamento è per mercoledì alle 22.45 con Stop and Goal Night. Perché per vedere tutte le reti ti basta una sola rete. Cielo!